we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità per quello che riguardano i prossimi giorni di fortnite ovviamente sulla bocca di tutti abbiamo l'evento di travis scott il mega concerto che verrà fatto a sabbie voglio farvi vedere delle cose molto interessanti che stanno succedendo ma voglio anche parlarvi della storyline che sempre di più diventa chiara e potrà esserlo ancora di più con la patch 12.41 di questa settimana prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news ma insomma ragazzi lo sapete che ci tengo tantissimo prima di entrare nel vivo del video a farvi una domandina e oggi ve la faccio mostrandovi un'immagine sì ragazzi mostrandovi un'immagine molto interessante quasi nostalgica beh ieri erano esattamente mille giorni che fortnite è disponibile pubblicamente per tutti mi spiego meglio battle royale perché fortnite in realtà esiste con salva al mondo da un po più di tempo quindi battle royale ieri compie mille giorni beh io due parole gliele vorrei spendere perché è una data veramente importante per quanto riguarda soprattutto la fama e il successo che questo videogioco tuttora mantiene sempre nelle primissime posizioni per quanto riguarda lo streaming e l'interesse da parte del pubblico e la domanda che voglio farvi ovviamente è qual è il tuo ricordo più bello di fortnite da quando hai iniziato a da adesso praticamente io ne ho viste veramente tantissime ne ho viste penso che il ricordo il più bello in assoluto sia mamma mia ce ne sono tanti non me la sono preparata a farmi questa domanda a me è una cosa che mi ha lasciato strabiliato ragazzi è stato l'evento del razzo che ha squarciato il cielo che ha lasciato tutte quelle fenditure lì non lo so è una roba che non avevo mai visto in un videogioco e ho ancora il sorriso quando ci penso dai dimmi qual è quello che ti è piaciuto di più la cosa che ti è piaciuto di più qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito a parlare del primo argomento di oggi ragazzi ed è nuovamente icon series abbiamo visto come l'emote che è uscita due giorni fa facesse parte di uno dei due vincitori di tik tok dove forte dove p games aveva appunto lanciato il contest beh oggi dovrebbe arrivare nello shop un'altra la seconda emote il secondo ballo che era stato il riccato nella patch 12.42 secondi che ve la voglio far vedere in modo che avete un anteprima anche voi adesso ragazzi lo sappiamo che non era proprio al cento per cento in coordinato il video ma anche quelli di epi games hanno un miliardo di cose da fare però dovrebbe essere disponibile seconda e ultima secondo ultimo ballo dedicato alle icon series 500 bucks probabilmente il suo prezzo molto carina niente di eccezionale ma comunque un bel pezzo da collezione e andiamo avanti invece a parlare di cose un po più interessanti e siamo nei file di gioco come vedete abbiamo visto sia in game l'arrivo del nuovo palco di travis scott qua invece siamo nei file di gioco dove vediamo appunto alcune costruzioni messe in punti strategici è molto difficile capire questa immagine perché dovete immaginare questi pezzi poi collocati sulla mappa nelle varie isole per darvi un pochettino più l'idea a chi magari non avesse ancora dato un'occhiata ci riportiamo sempre in full screen e ovviamente facciamo un piccolo tour di quello che sta succedendo siamo come vedete dietro sabbie sudate nelle isolette e alcuni pezzi del mega palco sono già montati e in questo momento stiamo vedendo una piccola piattaforma con addirittura dei riflettori ci spostiamo sull'isola un pochettino più piccola e notiamo ovviamente altri pezzi di palco si parlava di una cosa veramente mastodontica per l'astro world il concetto astro world di travis si parlava di una piattaforma fluttuante addirittura che andasse proprio sull'acqua non sappiamo ancora ovviamente come sarà fatto ma sappiamo che giorno per giorno si vedrà piano piano montarsi appunto questo mega palco che ci porterà all'evento quando è l'evento non lo sappiamo possiamo ipotizzare che il 30 aprile è una data molto interessante in quanto è proprio il suo compleanno magari in concomitanza con il compleanno farà anche il concerto state aggiornati con i miei video news che ovviamente ve lo dirò senza problemi e andiamo avanti invece a parlare di qualcosa di molto più interessante l'avete mai fatto ragazzi un tour nella stanza di mida in una maniera un pochettino più particolare beh ve lo voglio fare vedere e poi voglio parlarvi di due cose prima di salutarci siamo come vedete nella sua stanza ed è una una clip veramente molto interessante perché ci permette di spostarci in punti dove non è possibile ovviamente andare nel gioco qua abbiamo lui alla destra ci sono tutti i suoi elmi dorati tranne quello del cavaliere nero che poi in realtà abbiamo scoperto diventato diventare d'oro possiamo notare anche il lama come trofeo sempre sulla parete e proseguendo per questo corridoio molto buio invece ci sono tre skin appese tra cui la gente nitroglicerina e maia potrebbe essere maia la cosa molto curiosa è proprio questo pezzo ragazzi dove notiamo parti di un'armatura che in realtà non sono quelle di uragano anche se gli assomigliano tantissimo diciamo che la forma è molto somigliante un'altra parte importante stop un secondo il video è proprio in questo punto perché se guardiamo a sinistra del grammofono c'è un libro adesso vi faccio vedere finito questo video che cosa c'è su quel libro entriamo poi nella stanza del doomsday proprio dove appunto la macchina sta ancora in preparazione nonostante abbiamo visto già che ci sono delle cose molto interessanti sulla nostra agenzia appunto ovviamente le varie i vari cinque oggetti che sono colorati di viola per poi terminare il tour della stanza sulla scrivania di mida che come vedete ha come fermapenne tre lingotti d'oro davanti a questi lingotti un oggetto molto curioso lo abbiamo visto già nella precedente season il libro con il logo di oro quel logo che praticamente a oro dalla parte sotto il collo per tutto il torace e tanti altri piccoli oggetti dorati perché vi ho voluto far soffermare sul libro che c'era vicino al grammofono perché quel libro ragazzi non è altro che questo ed è veramente una notizia e dà delle informazioni molto interessanti perché ci fanno capire come mida e oro non siano la stessa persona mi spiego meglio secondo quanto viene tradotto da quello che vediamo il doomsday device c'è l'arma del giudizio deve essere attivata con il potere della tempesta e come vedete storm è stilizzato ma è il logo che ha oro proprio qua davanti e se guardiamo ancora più a destra nel libro c'è oro pickaxe il piccone di oro perché c'è il piccone di oro perché il piccone di oro ha il potere di dominare la tempesta il piccone più il dominio della tempesta attivano il doomsday device un'altra cosa veramente interessante ragazzi è proprio soffermarci qualche istante sulla prigione e più precisamente sul calendario che c'è nella prigione sfondata sappiamo che il prigioniero è quasi certamente oro perché se noi ricordiamo il giorno 25 che è proprio il giorno in cui oro uscì per la prima volta nello shop e quindi si potrebbe dire che scappò dalla prigione e arrivò nello shop il giorno è contrassegnato fino al 31 ultimo giorno di marzo ovviamente in cui lo abbiamo visto insomma ragazzi tantissime cose interessanti non manca poi così tanto alla fine della season sono sicuro che nel mese di maggio dopo il concerto di travis ne vedremo delle belle e anche per oggi io tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao